Ciao a tutti, oggi sono qua per mostrarvi gli ultimi acquisti che ho fatto per me, quindi vestiti, accessori, ma anche per la casa. Vi ricordo che se volete sostenere il canale potete farlo iscrivendovi, mettendo mi piace a questo video e commentando qua sotto. Potete anche acquistare quello che più volete attraverso uno dei miei link da affiliate, una percentuale andrà a sostenermi, oppure potete offrirmi una simbolica tazza di tè su Ko-fi. Grazie davvero di cuore a tutti quanti. Direi di partire prima con le cose per la casa, visto che le ho organizzate più vicine a me, e di partire subito dalla cosa più ingombrante, ovvero questo cestino, di cui in realtà ne ho presi quattro, per sostituire quelli che avevo in bagno e quindi metterli nel mobiletto del bagno. Avevo inizialmente in mente un tipo di cestino leggermente diverso, però su questo tipo qua, quindi similvimini o simillegno per intenderci, e di un colore piuttosto chiaro, visto che il mobile che ho io è scuro, mi piaceva qualcosa in contrasto. È veramente grande e capiente, devo ancora togliergli il cartellino. È costato circa 10 euro, semplicissimo da montare, non c'è da fare niente se non aprirlo. È veramente comodo e fa una bella figura in bagno, perché sembra tutto molto più organizzato, visto che non è direttamente a vista, ma si possono intravedere le cose attraverso queste piccole fessure. Passando al reparto, diciamo, cucina, ho preso questi tovaglioli che dovrebbero far parte della collezione, diciamo, autunnale, era l'ultimo rimasto, quindi non ho idea se ce ne fossero altri o meno. Comunque mi piacciono molto come abbinamento di colore e anche la trama sulle foglie. Diciamo che è autunnale senza essere troppo autunnale in stile Halloween, quindi rimane comunque molto delicato. In generale non c'erano tante cose autunnali, l'anno scorso ho trovato diverse decorazioni a forma di zucca, quest'anno ce n'era soltanto di un tipo e c'erano delle zucche color cenere, molto molto tristi. E non c'era nient'altro, l'anno scorso invece avevo preso anche la Ghirland, eccetera, quindi sono rimasta un tantino delusa, ma meglio almeno non ho preso cose inutili. Perché infatti le prossime cose che vi faccio vedere sono sempre per la cucina, ma sono dei pezzi diciamo molto utili e abbastanza classici, come ad esempio questa teglia che serve per raffreddare dolci, biscotti o comunque qualsiasi cosa venga tolta diciamo dal forno. Ancora la devo aprire praticamente qua poi a due sostegni e quindi sta in piedi e serve appunto per far raffreddare il cibo. Ho preso poi un set di coperchi in silicone che non servono soltanto a coprire pentole e padelle, anche solo per evitare ad esempio gli schizzi della frittura o comunque della cottura, ma servono proprio a sigillare anche i contenitori tipo per mettere via gli avanzi o io ad esempio l'ho utilizzato anche per coprire la ciotola di levitazione del pane. È un set da tre, questa è la dimensione diciamo più piccola, sono comodissimi e se non sbaglio vanno anche in lavastoviglie, quindi sono molto facili da pulire e appunto molto comodi per evitare ad esempio la pellicola. Altro oggetto per la casa molto molto utile è il classico scolapasta da lavandino, io lo definisco così perché praticamente ha i lati, ha diciamo dei supporti per cui può essere appoggiato direttamente sul lavandino senza bisogno di appoggiarlo dentro o tenerlo in mano. È molto comodo per lavare soprattutto ad esempio la verdura, molto molto capiente ma si può utilizzare anche come scolapasta classico. Altra cosa per la cucina è questo brick in vetro misurato, nel senso che qui è possibile misurare i liquidi fino a mezzo litro. È molto comodo non soltanto per evitare diciamo la bilancia ma perché non ho più un brick di queste dimensioni e quindi per eventualmente montare a mano il latte oppure per non so mescolare delle piccole quantità di liquido lo trovo più comodo rispetto ad esempio ad alcune ciotole. Altra cosa autunnale che ho trovato è questa candela nel vasetto tipo in latta color rame, molto molto carino e ha una piccola decorazione con delle foglie sopra. Io l'ho già anche accesa perché fa un profumo speziato, secondo me è perfetto per questo periodo dell'anno, forse forse anche per il periodo diciamo natalizio perché appunto sa molto di spezie tipo cannella, zenzero, noce moscata, chiodi di garofano. Profuma veramente l'ambiente, io in passato avevo provato delle candele di Kea super super profumate ma una volta accese non profumavano l'ambiente. Questa invece profuma, sarà che non ho un salotto enorme e quindi essendo più piccolo magari si è sentito di più il profumo però è approvata. Altra cosa per la cucina, una tovaglia veramente classica è semplicemente a quadretti, per il resto è bianca, in cotone. Mi piaceva l'idea di avere qualcosa di così semplice perché tutte le tovaglie che ho hanno la stampa o floreale o con colori particolarmente accesi. Tra l'altro non credo di aver mai preso una vera e propria tovaglia per conto mio ma sono tutte tovaglie che ho rimediato poi attraverso i miei genitori che avevano magari in eccesso e non utilizzavano più. Quindi questa è forse la prima vera e propria tovaglia che acquisto per conto mio, mi piaceva l'idea di avere qualcosa anche di molto classico. Anche se in realtà abbiamo un tavolo in legno molto molto bello e quindi è un po' un peccato coprirlo con la tovaglia. Per questo ho recuperato due tovagliette, molto semplici in realtà, proprio per poter mostrare un po' di più anche il tavolo. Ultima cosa presa da Ikea per il bagno e altro oggetto veramente molto molto classico che ancora mi mancava, è questo aggeggio per pulire sostanzialmente i vetri del box doccia. Inizialmente pensavo fosse soltanto uno sfizio, una cosa da, diciamo, precisini, ma con il tempo pulendo la doccia mi sto rendendo conto che probabilmente mi risparmierei, ciao Taki, molto tempo a pulire insomma i vetri del box se pulissi dopo la doccia dagli schizzi dall'acqua, in modo da evitare la formazione di calcare o comunque quegli aloni da schizzi nella doccia. In realtà da Ikea ho preso anche una cosa per Taki, forse si è palesato per questo, gli ho preso un tunnel per il suo compleanno, non sapevo bene che cosa prendergli, inizialmente volevo una cuccia, però in realtà ha diversi posti dove dorme in casa, quindi ho preferito prendergli qualcosa di interattivo, visto che gli piace tantissimo correre dietro i cuscini del divano, ho pensato che un tunnel potesse avvicinarsi molto a quel tipo di gioco che gli piace, quindi gli ho preso questo tunnel, è un tunnel classicissimo, bianco e rosa, ma di rosa veramente pochissimo, soltanto questa pallina e in realtà il supporto per tenerlo chiuso. Continuiamo con le cose di casa, ma questa volta prese da Primark, un tappetino per il bagno, è un colore tra il beige e il grigio, che richiama molto le mattonelle che abbiamo in bagno, quindi ho pensato potesse essere perfetto. C'era in questo colore, oppure bianco, molto classico, è costato 7 euro, è uno di quei tappetini abbastanza morbidosi, c'è scritto in memory foam, antiscivolo, per ora ci sta piacendo molto, è morbidino, insomma fa quello che deve fare, è un tappeto da bagno da utilizzare ad esempio quando si esce dalla doccia. Ho preso poi un profumatore per ambienti, di quelli con la boccetta e i bastoncini, questo è in particolare Handwind, Amber & Bergamot, dice che dura fino a 8 settimane, vediamo un po', è da 100 ml. È costato 3,50 euro, secondo me è un prezzo più che onesto, mi ero trovata abbastanza bene con i profumatori per l'armadio, ma avendo la cabina armadio purtroppo non sono durati quanto mi aspettassi, quindi provo con questo qua e vediamo come va. Mentre per quanto riguarda gli acquisti per la persona, da Primark ho preso questo berrettino, un basco molto classico, 100% lana, è costato 5 euro, quindi di nuovo il prezzo mi è sembrato molto buono, ed è di un color panna, secondo me è molto molto carino. Io ho un altro basco molto bello, sempre in lana però è rosa e a volte faccio fatica a metterlo e ad abbinarlo insomma al cappotto, al giacchetto eccetera, questo veramente può andare bene con tutto. Un altro pezzo diciamo molto molto classico, queste scarpe che sono tipo mocassini, ne ho provati diversi tipi in vari negozi e il problema che io ho con questo tipo di scarpe è che essendo un po' a punta, se prendo un numero che è giusto mi fa molto molto male in questa zona qua, ma se prendo il numero dopo che mi sta comodo, poi camminando mi esce. Sono stata poi da Zara dove ho comprato la camicia che indosso oggi, è in poliestere, molto leggero, ha una stampa che a me personalmente piace molto ed è un tantino fuori dalla mia comfort zone, ho voluto rischiare un pochettino perché ultimamente sono in fissa con le camicie e non mi piaceva però l'idea di avere tante camicie tutte uguali nel senso dal taglio molto classico, molto semplice o a tinta unite, quindi mi sono detta proviamo qualcosa di leggermente più bizzarro. La combinazione colori mi piace tanto ed è costata circa 30 euro. Sempre da Zara poi ho preso anche dei pantaloni che se non gridano autunno questi poche altre cose lo possono fare. Sono a vita alta, col cavallo leggermente basso, hanno anche le tasche, sono molto comodi e appunto secondo me saranno perfetti per questo autunno-inverno anche come combinazione diciamo di colori. La taglia che ho preso io è una S anche se è leggermente comoda, ma l'XS mi sta veramente troppo troppo stretta e questi sono costati invece circa 40 euro. In un mercatino a Milano ho poi preso gli orecchini che sto indossando oggi, sono di seconda mano, ho pagati circa 10 euro e mi piaceva molto il fatto di avere qualcosa così ad incastro, con una forma geometrica diciamo ben definita e soprattutto con un tocco un po' luminoso. Sapete che tendo a mettere sempre le stesse cose, ad avere pochi gioielli diciamo e tendo a mettere sempre quelli proprio perché ne ho pochi ma che mi piacciono molto e quindi ho pensato di aggiungere qualche cosa per cambiare un po'. Ultimo ma non per importanza questo cappotto slash giacca. Dovete sapere che mi ero innamorata di una camicia in flanella da Zara Uomo, bellissima, morbidissima e mi piaceva l'idea magari di prendere e utilizzarla come un vero e proprio cappotto. Ma poi mi sono imbattuta in questo capo che effettivamente è molto simile a una camicia, caldo come un cappotto, veramente morbido, è oversize, tiene caldo il giusto per questa stagione secondo me perfetto, ha le tasche sul davanti, le ha sul fianco, mi piacciono molto anche i bottoni, appunto sembra un camicione però tiene caldo come un cappotto quindi ho soddisfatto questo mio desiderio. Questo invece ha costato circa 40 euro. Questo era quindi tutto lo shopping fatto negli ultimi giorni, fatemi sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensate, qual è il vostro pezzo per la casa preferito e se secondo voi ho fatto delle belle scelte in fatto di abbigliamento. Non faccio spesso compiere di questo tipo quindi fatemi sapere se vi ho stupiti o se vi aspettavate questi acquisti qua. Spero di avervi tenuto un po' di compagnia e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!